un saluto a tutti buona domenica percepisco un po di rassegnazione da parte vostra da parte dei tifosi del milan il campionato è ancora lungo c'è ancora tutto da giocare martedì arriva la coppa italia il derby con l'inter quindi a milanello stanno provando a trovare tutte le soluzioni possibili e immaginabili per vincere la gara d'andata della semifinale di coppa italia e poi dopo c'è il napoli insomma il campionato è ancora lungo ci sono ancora tanti punti a disposizione non tutto è perduto noto da parte del tifoso del milan in questo momento un po di rassegnazione un po di rammarico un po di delusione ecco dopo questi due pareggi con udinese e salernitana ma bisogna andare avanti il campionato è fatto a tappe ogni tappa ha una sua storia e il milan ora si prepara ad affrontare l'inter iscrivetevi al canale per farlo crescere ci siamo un po fermati negli ultimi due giorni probabilmente anche a causa di questo momento negativo del milan ma le notizie comunque continuano ad arrivare perché arrivano delle importanti impressioni importanti notizie importanti passi avanti da parte di slatan ibrahimovic oggi a milanello qual è la novità nei giorni scorsi ibrahimovic si è allenato in palestra da solo per quasi un mese anzi per oltre un mese negli ultimi due giorni ha cominciato a calciare sul campo quindi corsetta sul campo per slatan ibrahimovic la novità di oggi è che nella prima parte dell'allenamento in gruppo con la squadra c'era anche slatan quindi riscaldamento con il gruppo nella prima parte del delle esercitazioni al centro sportivo di milanello e poi dopo si è staccato ibrahimovic ha fatto allenamento personalizzato individuale sul campo però quindi correndo ancora sul campo sono dei passi in avanti da parte di slatan ibrahimovic che sta cominciando a percepire le sensazioni di rientro per poter rientrare finalmente dopo tanto tempo ricordiamo che la sua ultima partita si è giocata contro la juventus primo tempo con la juve poi è uscito dal campo a causa di questo di questa infiammazione al tendine d'achille infiammazione che sta passando ibra sta facendo dei passi in avanti sta cercando di tornare prima possibile non ci sarà contro l'inter nel derby di coppa italia ma attenzione ad una possibile convocazione di slatan contro il napoli nella trasferta del 6 marzo gara decisiva per il campionato del milan probabilmente la parola decisiva è eccessiva diciamo da gara molto importante per la gara per la il prosiego del del campionato anche perché dopo il napoli ci saranno altre 10 partite a disposizione quindi sono 30 punti a disposizione quindi buone impressioni da milanello per quanto riguarda slatan sta facendo del suo meglio per tornare prima possibile e oggi prima parte di allenamento in gruppo riscaldamento in gruppo poi ha proseguito da solo sempre sul campo questa è la buona notizia che arriva dal centro sportivo di milanello per quanto riguarda invece gli altri abbiamo comunque capito che si è fatto sono fatte delle prove alternative al 4231 da parte di stefano pioli vediamo se verranno applicate già da martedì contro contro l'inter a san siro diciamo alle ore 21 quindi in serata e soprattutto se ci saranno dei cambiamenti anche per quanto riguarda la formazione iniziale l'undici iniziale un turnover che potrebbe garantire al milan un'alternanza dei giocatori anche in vista del prossimo impegno contro il napoli un giocatore che manca tanto a questo minan e che secondo me è anche sottovalutata la sua assenza è simon kier oggi facevo un po di conti è esattamente più o meno tre mesi che lui si è fatto male al crociato che si è rotto il crociato l'operazione è stata effettuata agli inizi di dicembre la partita in cui si è fatto male è stato è stata giocata a genova il primo di dicembre sostanzialmente è passato tutto il mese di dicembre tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio sono tre mesi il comunicato del milan dopo l'operazione al crociato di kier parlava di sei mesi di riabilitazione quindi praticamente siamo a metà del percorso passerà tutto marzo tutto aprile e tutto maggio quindi il campionato per il difensore danese è già finito però siamo a metà di un percorso riabilitativo che dovrebbe poi portarlo ad essere abbastanza pronto per il ritiro estivo a milanello tra l'altro il milan potrebbe anche partecipare ad una tournée americana quindi vediamo come si organizzerà l'estate rossonera e quindi capire dai primi allenamenti con la squadra nel ritiro estivo come sarà poi tornato kier da questo brutto infortunio da questo brutto incidente al crociato che purtroppo vieta al milan di avere uno dei giocatori più importanti della rosa perché molto spesso si parla solo di slatan si parla solo di un giocatore molto importante come ibrahimovic ma si sottovaluta la presenza scusate si sottovaluta l'assenza di un giocatore che in difesa fa davvero la differenza cioè simon kier con kier in campo il milan è più sicuro è più pronto è un giocatore che riesce a dare serenità al gruppo anche prima e dopo la partita anche nello spogliatoio un giocatore che riesce tecnicamente a capire prima la giocata dell'avversario e con la sua esperienza riesce spesso ad evitare rischi e danni per il milan e la sua assenza ripeto è molto spesso sottovalutata qualcuno non ci pensa più all'assenza di kier ma il milan sta giocando senza un giocatore davvero molto importante e che avrebbe potuto essere non dico decisivo ma sicuramente avrebbe potuto dare una mano al milan in questa fase cruciale della stagione e in generale nei momenti più difficili della squadra nonostante la sua assenza nonostante l'assenza sia di slatan che di simon kier il milan è ancora primo in classifica con tutte le difficoltà del caso con tutti i problemi che il milan ha in attacco che non riesce a segnare con tutti i problemi anche in difesa perché il milan subisce gol nonostante questo il milan è ancora primo in classifica quindi non tutto è perduto va voltata pagina dopo l'udinese e dopo la salernitana dopo questi due pareggi di fila perché ora c'è il derby e c'è la sfida contro il napoli a proposito di derby non ci sarà sandro tonali questa forse la vera nota negativa contro i nerazzurri perché verrà a mancare per squalifica il centrocampista più in forma dell'intera stagione è una mia classifica personale al primo posto dei centrocampisti del rendimento dei centrocampisti in questa stagione metto assolutamente sandro tonali al primissimo posto poi dopo benasser che si e tutti gli altri ma il primo è sicuramente tonali per il rendimento continuo che ha avuto nel corso della stagione sarà una importante perdita una grave perdita per il milan nella gara d'andata della semifinale di coppa italia con l'inter ci sarà al ritorno però insomma il milan deve fare a meno del suo mediano titolare nella gara che sente molto quella contro quella contro l'inter vediamo il lato positivo di questa situazione il milan avrà un tonale più fresco contro il napoli perché si riposerà contro l'inter vediamo il lato positivo il rovescio della medaglia di un'assenza di tonali contro l'inter anche se il giocatore avrebbe assolutamente voluto giocarla ci vediamo domani ore 12 conferenza stampa di mister pioli al centro sportivo di milanello saremo lì a milanello quindi faremo un video proprio dal centro sportivo rosso nero dopo la conferenza del mister e poi nel pomeriggio un altro aggiornamento sulla probabile formazione che affronterà i nerazzurri martedì sera a san siro